Il Prato Verde del Paolo Poli non sarà più l'unico elemento condiviso tra Libertas Molfetta e Nuova Molfetta. Non più almeno. Le due società sportive bianco-rosse hanno accantonato la rivalità, dando vita ad un progetto calcistico comune, rispolverando la gloriosa denominazione Molfetta Sportiva 1917, proprio in vista del centenario ormai prossimo. Obiettivo? I piani alti del campionato di eccellenza ed il ritorno in quella Serie D, che in rival adriatico manca da lontano 96. Che due club sportivamente rivali, quello di Mauro Lanza e quello di Saverio Bufi, si stringano la mano e condividono stadio, capacità, staff e risorse, non è da tutti i giorni. A far da Tredunion per arrivare alla nascita di un'unica formazione molfettese, oltre a Giovanni Di Benedetto, anche e soprattutto Egno Cormio, genero di Sandro Fiore, il leggendario presidente del Molfetta dall'84 fino al 90, l'anno della Serie C2. Ci proviamo, vediamo quelli che sono i risultati che il campo ci dirà e ossequeremo il risultato per quello che è. Se poi siamo stati più bravi degli altri, vuol dire che vedremo la D, la Molfetta. La stretta di mano fra le due realtà biancorosse, con la nuova Molfetta, che parteciperà regolarmente al campionato di promozione e che fungerà da serbatoio per la prima squadra, valgono la condivisione di un progetto biennale. Riportare in auge la Molfetta sportiva 1917, costruendo un buon settore giovanile. Tuttavia c'è la grana stadio da risolvere, con i non più procrastinabili lavori per la messa in sicurezza dell'impianto, che saranno ben presto appaltati. L'allargamento della base societaria e la condivisione di un programma comune significano anche uno scambio di risorse e competenze. Soprattutto l'allargamento della base societaria, mutuando quello che 30 anni fa, perché sono passati 30 anni, avevamo già pensato di fare in quella nostra prima esperienza. Secondo lo stadio, che ha delle carenze strutturali, che è stato uno stadio abbandonato nel tempo e ora sconta queste difficoltà. Il settore giovanile è la cosa più importante. Con i primi nodi da sciogliere, il tassello iniziale è quello dell'allenatore. Sfumato Nicola Ragno, il tecnico di Molfetta, ha deciso di prolungare la sua avventura a Nardò di un'altra stagione, sono tre i tecnici sotto la lente della dirigenza presieduta da Mauro Lanza. Muzio Fumai, lo scorso anno a Mola, Leo De Gennaro, chiamato in corsa ad allenare la nuova Molfetta, e Gino Zinfollino. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra che possa essere protagonista in eccellenza e tornare in Serie D. Questo vuole essere l'obiettivo a lungo termine. Il presente invece porta con sé l'accordo tra i due club di Molfetta per accontentare appassionati e nostalgici del calcio bianco-rosso.